O Trearch sta diventando prevedibile. Ma a parte gli scherzi, ciao a tutti ragazzi, qui è ArchiviParla e appunto come ci aspettavamo moltissimi hanno rilasciato un nuovo teaser, la Trearch, sul loro Twitter che è questo o altro video di circa 15 secondi. Partendo innanzitutto da quello che vediamo nella location, penso nuovamente che questa sia grafica in game e che questo sia un pezzo della mappa, praticamente riconfermandoci nuovamente in maniera implicita che siamo a Call of the Dead vedendo tutto il ghiaccio e il freddo e questo passaggio penso sia quello che si trova a sinistra della first room originale di Call of the Dead che è quel passaggio che porta direttamente al faro con quella specie di scalinata attraverso la grotta almeno questa sembra essere quella che vediamo davanti appunto la grotta e forse il passaggio è leggermente diverso dato che la mappa sarà probabilmente un remake molto simile tipo a Blood of the Dead quindi abbastanza modificato con alcuni pezzi della mappa originale e magari alcune parti nuove o aggiunte in più. Ma a parte quello che comunque devo dimettere che questo pezzo di mappa è fatto veramente bene sembra davvero figo, infatti abbiamo il cielo che sembra rosa, non per forza buio di notte potrebbe essere o l'alba o il tramonto e appunto tutto questo pezzo di mappa fatto con il ghiaccio è quello che penso possa essere elemento 115 da come è praticamente fluorescente sembra veramente veramente bello e dato che mi aspetto che questa sia grafica in game mi aspetto che la mappa sarà praticamente tutta così, il che è fantastico. Per quanto riguarda invece la parte audio sentiamo questo personaggio con un accento molto strano che sembra essere o tedesco o russo, ma di questo ci arriveremo tra poco in cui parla appunto di questo meccanismo per diventare uomini migliori, sistemare il mondo e che dice che bisogna farlo con una specie di sangue. E questa è una cosa molto strana perché molti pensano se ricolleghi al sistema che utilizzava il sangue di Richtofen a Blood of the Dead quindi potrebbe esserci qualche cosa per quanto riguarda il sangue che sembra essere qualcosa di molto centrale dalla storia di Black Ops 3 in poi dato che abbiamo visto le Blood Vials di Black Ops 3 che hanno permesso ai primis di sopravvivere quello che Monty ha fatto alla fine di Black Ops 3 praticamente cancellando tutto quanto loro invece sono potuti sopravvivere e sono stati mandati indietro durante la Grande Guerra nel Medioevo potendosi sopravvivere in maniera orrenda perché fare un ciclo infinito per l'eternità di sempre le stesse cose non è proprio vivere al 100% però appunto sono rimasti dentro questa esistenza. Abbiamo visto appunto poi come il macchinario di Black Ops 4 a Blood of the Dead abbia utilizzato il sangue di Richtofen e lui sia morto mentre tutti gli altri sono ovviamente scappati con i portali però sembra che questo tipo di sangue possa essere un oggetto molto potente e comunque fondamentale e potrebbe servire a qualcosa in questa nuova mappa quindi o magari qualcun altro si sacrificherà utilizzando il suo sangue un altro macchinario molto simile per caricare non lo so un'arma o comunque per fare qualcosa oppure vedremo un altro collegamento o funzione del sangue di qualcuno. Per quanto riguarda chi è questo personaggio come ho detto prima ha questo accento che non si capisce 100% sembra essere praticamente misto quindi un semi tedesco o russo per adesso le teorie sono due personaggi o Gersh che abbiamo chiaramente visto su Ascension e se ne è parlato anche su Gorod Krovi o l'altro molto molto interessante però non siamo sicuri al 100% potrebbe essere Harvey Iena che è un dottore che ha creato lo sciacallo e la sua versione potenziata la Iena Inframorti che era ovviamente a Call of the Dead ma è stato poi anche lui a Gorod Krovi e ha partecipato più o meno alla guerra che c'è stata lì con tutti i draghi durante la timeline dei primis mentre in quell'originale semplicemente appunto ha fatto le armi che c'erano a Call of the Dead. quindi molti pensano sia Gersh per il fatto che l'accento appunto sembra russo e Gersh è russo però stessa cosa è un pochino per Harvey Iena che è americano però è stato alla sede di Ascension sempre a lavorare col gruppo 935 per circa un decennio quindi anche più che il caso a forza di parlare russo può capitare che venga un accento soprattutto misto quindi io punterei di più su Harvey Iena perché c'è più il collegamento a Call of the Dead e l'arma a sciacallo però anche Gersh è possibile anche se molti dicono che appunto Gersh abbiamo già esplorato la sua storia su Black Ops 1 e anche capitoli successivi mentre di Harvey Iena si sa davvero davvero poco c'è qualche registrazione radio originale di Rick Tofen a Call of the Dead c'è qualche riferimento con una lettera su Gorod Krovi ma per il resto finisce lì e inoltre sul sito Call of Duty Wiki che io molto spesso utilizzo per certe informazioni c'è scritto che il suo stato al momento è sconosciuto quindi sia nella timeline originale che in quella primis non si sa se è morto, scomparso, andato da un'altra parte mentre Gersh è morto al 100% un'altra cosa interessante è che con questo teaser di 15 secondi hanno rilasciato la scritta The Way Through Will Be Revealed che per molti può significare The Way Through sarebbe Agartha dato che teoricamente dovrebbe esserci un passaggio per Agartha nella sede a Tunguska in Siberia e anche un sito per il paradosso temporale avevo fatto un video del genere qualche tempo fa e qualcuno ha ricollegato tutto questo concetto di Way Through con Agartha a un disegno che si trova a Classified infatti secondo questo disegno scritto dal Dr. Lyman secondo gli appunti di Rick Toffin abbiamo The Way Through che sarebbe teoricamente Agartha sotto c'è scritto Vicky's Map Towers ma per altre persone potrebbe essere il faro che vediamo a Call of the Dead poi sopra Elemental Shards che abbiamo preso ad Alpha Omega e quello precedente a Blood of the Dead e sopra il Golden Rod la verga d'oro che ovviamente noi abbiamo preso alla Call of the Dead originale nella primissima timeline grazie ai personaggi delle celebrità durante l'easter egg di Call of the Dead stessa da dare a Rick Toffin Ultimis per il suo piano è stato il primissimo pezzo più importante perché unita alla pietra focale è stata poi utilizzata su Moon per prendere il controllo dell'Ethere e tutto quello che è poi successo nella timeline originale degli Ultimis con Black Ops 2 quindi il collegamento a me piace davvero davvero tanto perché anche secondo me dato che siamo tornati o probabilmente torneremo a Call of the Dead che è una mapa che di base molti appunto non trovavano il senso perché ovviamente ci sono gli Ultimis però chiusi dietro un portone e una parete e noi siamo soltanto delle celebrità e dal punto di vista della storia comunque molti dicevano a Call of the Dead non c'è nulla di veramente incredibile ci sono sia delle registrazioni radio di Pablo Marinos di cui abbiamo parlato più volte in questi giorni però per il resto non sembrava esserci nessun collegamento e molti si aspettavano piuttosto io stesso anche un remake di Revelations, The Origins o comunque qualche altra mappa che sia un punto più fondamentale per quanto riguarda la storia di Etere però tutti i collegamenti e i pezzi si stanno mettendo assieme perché abbiamo ovviamente il passaggio per Agartha che si trova qui in Siberia la foresta con anche il fallò che c'era su Black Ops 3 abbiamo tutto il collegamento della Vergadoro quindi con la timeline originale di Black Ops 1 abbiamo visto appunto che c'è un journal di Rick Toffi nel 1469 mentre Call of the Dead il primo è nel 1471 quindi siamo comunque vicini a quella linea temporale sappiamo che lì c'è Pablo Marinos, ci sono Takeo, Nicolai e Dempsey sarebbe arrivato qualche giorno dopo per cui secondo me i pezzi iniziano a incastrarsi davvero davvero bene e spero che presto appunto tutto questo sia alla fine è concentrato in un solo trailer abbiamo visto precedentemente con tre teaser che erano parte di un trailer più grande questo appunto è già il terzo filmato di circa 15-10 secondi o cose del genere quindi mi aspetto magari o domani o qualche giorno dopo o addirittura magari settimana dopo proprio per fare una botta incredibile il filmato completo di circa magari due minuti comunque un trailer che sia tutta grafica in game che appunto ci sia qualche spiegazione che confermi al 100% che Call of the Dead anche se ormai è sicuro e possiamo andare a vedere qualche altro dettaglio perché per adesso appunto abbiamo speculato su Pablo Marinus adesso su Harvey Iena o su Gersh quindi sembra che stanno cercando di esplorare alcuni pezzi della lore che sono rimasti magari molto indietro addirittura nella timeline originale Ultimis di Black Ops 1 e stanno rimettendo insieme tutte quelle poche informazioni che avevamo per darci qualche news in più e farci speculare su tutti quelli che erano personaggi secondari perché ce ne sono stati tantissimi durante la storia etere soprattutto nella primissima timeline lì c'erano nel gruppo 935 nel gruppo di Ascension tantissime tantissime persone però assolutamente le loro storie sono in qualche modo iniziate e concluse e spiegate per bene mentre ci sono alcuni personaggi come Pablo Marinus che appunto sembra essere troppo secondario per cui era il personaggio messicano il quinto è riuscito a sopravvivere insieme agli altri agli esperimenti poi dal nulla è morto e sembra strano che non ci sia qualcosa in più alla sua storia Harvey Iena in questo momento è stato sconosciuto quindi potrebbe essere morto scomparso scappato in un'altra dimensione in un'altra linea temporale per cui lui dice a Gorod Klovy che si era accorto che c'è stata qualche discrepanza nel mondo perché proprio in quel momento Rick Tofen Primis era tornato a The Giant a uccidere se stesso Ultimis dopo che aveva trasportato Maxis e Samantha quindi in tutto l'universo si erano fatte spaccature temporali e dimensionali per colpa del fatto di aver ucciso se stesso del futuro e quindi Harvey Iena si era accorto di questa cosa l'aveva scritta a qualche superiore durante la battaglia di Stalingrado per cui direi di fermarci qui come al solito perché essendo un teaser di 15 secondi si può speculare fino a un certo punto ma se iniziamo a guardare qualche minimo dettaglio da qualunque parte stiamo qui dei giorni in giorni infiniti fatemi sapere quindi ragazzi voi cosa ne pensate di questo teaser com'è il vostro hype per quanto riguarda Call of the Dead questi collegamenti a personaggi secondari come Pablo Marinus Harvey Iena Gersh e soprattutto ricollegarsi a quella che era la timeline originale di Black Ops 1 che tornando a Call of the Dead è la cosa più sensata perché lì ovviamente c'erano gli Ultimis che stanno facendo il loro primissimo piano appena andati via da Ascension e sinceramente a me è sempre piaciuta la timeline Ultimis sarà anche Black Ops 1 che è stato i primissimi giochi che ho giocato quindi c'è sempre la nostalgia la timeline dei primis secondo me essendo troppo confusinare con linee temporali diverse e dimensionali quella Ultimis per quanto comunque molto con la fantasia elemento 115 teletrasporti e altro aveva ancora un pochino di senso e soprattutto i personaggi Ultimis secondo me sono quelli che si sono legati di più a noi sono belli anche i primis però gli Ultimis sono proprio completamente fuori di testa specialmente Rick Tofen quindi staremo a vedere anche in altri modi se collegheranno comunque la storia originale Ultimis e anche qualcosa dei primis dato che abbiamo visto quella specie di teaser per le Memories forse di Dempsey quindi un collegamento sia a primis sia agli Ultimis che ovviamente in questo momento sono Alphalot in Siberia Tunguska che c'era su Black Ops 3 tutti insieme a prepararsi per l'ultima battaglia spero come sempre ragazzi che il video ci sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo un abbraccio ala grazie a tutti